E' difficile trovare delle parole per esprimere una gioia, una gioia perché io penso, come mi ha detto Paolo Lazzaroni prima, che io faccio una vita riservata, vivo tra casa mia Santa Colomba, il palazzetto, non sono uno che chiacchiera, non so il nome quasi di nessuna persona, ma sentire così riconosciuta non solo la laboriosità, anche la passione dentro la laboriosità, credo che sia qualcosa di bellissimo, che non avevo mai provato nella mia vita e purtroppo, e non sto parlando di quanto sarà lunga questa finale, visto che la domanda non è di pallacanestro, un giorno dovrò prendere la macchina e andare via e quel giorno, io non ci voglio pensare a quel giorno. Grazie a tutti.